suonostorre.com passione per la musica dal 1988 suonostorre.com srl è uno store online dove è possibile trovare prodotti sempre disponibili importanti anteprime sul mercato e strumenti classici con il migliore rapporto qualità prezzo strumenti a tastiera a corde a fiato a percussione e loro accessori impianti audio microfoni mixer processori cavi e supporti inoltre ogni genere di accessori e didattica e prodotti per dj impianti luce video e ai file le sezioni dedicate ai nuovi arrivi agli stock alle offerte speciali e ai pacchetti convenienza sono dedicate a chi vuole il massimo a piccoli prezzi non solo privati ma anche case di produzione scuole di musica professionisti e rivenditori suonostorre.com srl la qualità a ritmo con la convenienza